Allora andiamo a cercare dove è la mia pagina facebook C'è un'estensione Questa è una pagina interna che ho creato C'è un'estensione per scoprire la personalità La comparazione tra la mia personalità e quella dei miei amici in facebook Allora andiamo veloci Facciamo la comparazione tra me e Barack Obama Allora questo è estroverso Lui è estroverso l'81% e io il 26% Questa è la chiarezza Lui è il 77-99% E questa sarebbe la sacevolezza Lui il 40% nel 26% Questo è il nevrotico Il 16% Sono un pochettino infilmato Ma in modo questo è il coscienzioso Naturalmente il Presidente degli Stati Uniti Lui è il 95-2046 Facciamo un'altra comparazione Andiamo a vedere tra Bill Gates Ecco qua si vede che si inverte Mi sono più estroverso Qua se pare Zain come chiarezza Lui è più socievole Coscienzioso qua Naturalmente è ovvio Il nevrotico è molto più Lui è il cambio di sistema Zuttenberg Facciamo una comparazione veloce Allora 26-37% è estroverso il più o meno Sembra mai Non fa tanta differenza Chiarezza sono uguali Il nevrotico è molto più nevrotico E qua si compare Coscienzioso sono uguali Andrei Un'altra amica è qua Lì a forno Vediamo la differenza Ma similari qua Segnano 86% Estroverso i 100 compagni Chiarezza Sono uguali Nevrotici Per cui io compagni Lo dirai tanti insomma Così Segnano uguali Quasi quasi Se potrebbero sposarsi Neveva Qualcun altro Memorie Oltre Sì Vedete che differenza Che fa Segnano 65% 65% Estroverso Sono più estroverso Che cazzata Che cazzata Ma sì Estroverso Socevole Molto Socevole Ma qua Chiarezza Se non ti devo leggere E chiare Nevrotici Per esempio Coscienziosi Sono più senziosi Sono più senziosi Vediamo il discorso Aspetta che vediamo Qualche altro personaggio Vittorio Vittorio Fioravanti Il poeta Vediamo 86% Qua sei qui Parenti O meno Ma guardati Chi lo direbbe Che se Insomma E' un poeta Internazionale Va bene Io chiudo il discorso Mi sembra di aver capito Chiuderebbe qua Non può repinare Dal psicologo Chiudiamo